eccoci ragazzi per la terza parte della raffle mega raffle col box intero in palio diamo un'altra agitatina siete col fiato sospeso voi che siete ancora dentro dovete morire allora andiamo Giuseppe Bronzellino Goal Black 9 Martino Game Stop I Dragon the King of the R Sherlock Holmes 91-100 Moving Seven Diego Accorsi Zequizee Saluto anche lui con uno dei nick più strani di Youtube Pokemon Maxx Harry Potter Fan 85-28 Poké Gamer X Semi Poké Fan 007 Charizard 32-001 Charizard 32-001 Niko Utopia 99 Giovanni Delisi Giovanni Delisi Greta Gucci Lello Lello Lelloni Lello Lelloni Elma Poké Collection Gianluca Gottes Gianluca Rossini Gianluca Rossini Luca Galaxy 20 Gianluca Rossini George Rossini Luca Galaxy 20 CKL TCC Gonzalo Saraiva Draghetto Squalo Francesco Luigi Montis Ci stiamo quasi avvicinando alla fine Allora ne ho presi due Abbiamo Yogi Muto E Matteo Leverone Franceschino 00 Emanuele di Somma Antopoke 01 Yugi Alofan Box Alessio Paudice 89 Edo Zanna 99 Peccato mi dispiace Un mega saluto anche per te Lui aveva quasi sfiorato la Raffle Opening Adesso ha quasi sfiorato anche il box Quart KTS Mark De Imperial 97 Giovanni 59 24 74 64 25 63 Pokemon Minecraft Tita Antonio Lauritano Giuseppe Romano Darkita Pokemon Darkita Pokemon Lorenzo Ruggeri Mr. Aurleo Mr. Aurleo Ola Diego Andres Superfalco 97 Matteo Berardi Matteo Berardi Axel Syncro Axel Syncro Simone Cattani Pippo 010238 S65 788 S65 788 S65 788 Savirzum Chadabo Martina89275 Enel Sarsana un saluto anche a lui Dark Liteon D.Watt un salutissimo anche a te Mister Fuji Fede Iba Giovanni Di Biasi sono rimasti veramente pochi nominativi M.K.8564 Donkey Kong 001 Sliceries ultimo nominativo di questa terza parte De Maximus 817 Perfetto ragazzi vi aspetto per la quarta parte penso che riusciremo a fare sì penso forse riusciremo a fare l'ultima parte a dopo ciao 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 ciao